ma direi principalmente sulla produzione alimentare perché perché comunque penso che in italia sia indiscutibile quello che il valore a livello mondiale culinario quindi perché perché non sfruttare questa occasione penso unica l'aver avuto la possibilità a livello mondiale di organizzare appunto un evento di questo genere importante dal momento che siamo i maestri di quello che è il tema penso sia veramente un'occasione unica ovviamente da buon italiano sono mi piace molto la cucina in genere per quello che è la mia il mio stile di vita quindi da un albergo all'altro comunque sempre in giro per il mondo cerchi di adeguarti un pochino a quello che che sono le varie località questo è insomma è ovviamente sono molto legato a quello che la mia terra perché abbiamo dei prodotti tipici molto molto importanti anche a livello mondiale quindi spero di poter in questo modo valorizzare quello che è il nostro territorio